Mio nonno diceva il tempo è l'ingrediente più prezioso. Ci penso sempre. Lo accusiamo di volare via quando siamo noi a correre. Ma ogni cosa ha bisogno di tempo. Quelle buone ancora di più. Per questo lavoriamo ogni giorno secondo il metodo lenta lavorazione. Dando tempo con generosità a quello che tutti noi amiamo. La pasta. Mio nonno aveva ragione per quello che ci sta a cuore. Non ci sono scorciatoie. Pasta Rumbo. Eccezionale tenuta alla cottura.